Allora, ho provato a risolvere questo, come si può dire, era un esame di maturità del 2012, con questo albero lungo, adesso vediamo, non mi ricordo, semmai metto il disegno qua in la schematizzazione dei carichi qua, comunque lungo 600 mm, ok? E volevo vedere se, simulando in questo modo, certo che io posso simulare con la trave, con Solidworks e vengono i risultati probabilmente praticamente uguali alla teoria, però io volevo provare proprio col FEM vero e proprio, no? Dunque, ho ipotizzato un diametro 50, ho messo i miei supporti e ho messo i carichi, ho tribulato un po', ecco, devo dire la verità e ho tribulato un po', come si può dire, e però perché ho dovuto vedere dove mettere i carichi, come mettere i carichi per più o meno andare vicino alla presentazione teorica e ha fatto un po' di esperienza, ho capito un po'. Comunque, allora, il, dunque, io ho, abbiamo due, abbiamo un carico di 3.000 newton qua, un altro carico di 7.000 newton e ho una coppia di 286,5 newton metri applicata qui e dove ci, teoricamente, ci sarebbe una pulleggia e un'altra pulleggia applicata qui, ok? Dunque, il mio movimento torcente è da qui a qui. Questi sono i miei cuscinetti, ho schematizzato i cuscinetti e, teoricamente, sono andato molto vicino. Ecco, l'unica cosa che, qua io non sono riuscito a rappresentarlo bene, ho dovuto aggiungere una pressione, non ho potuto applicare una forza perché non riesco ad applicarla in centro, se qualcuno lo conosce, un metodo per applicarla in centro e, dunque, ho dovuto usare una pressione e, dunque, ho visto, sperimentando, che questo, comunque, mi aumenta un po', rispetto alla teoria, mi aumenta le tensioni, un pochino me le aumenta e, dunque, sicuramente, avrò delle tensioni maggiori rispetto a quello teorico, a quel calcolo, anche se, ripeto, per me, questo qua, sicuramente, è più vicino alla realtà rispetto al calcolo teorico, schematizzato in 2D, no? Sicuramente questo è più vicino, però, proprio per avvicinarmi. E, allora, posso dire di essere contento, nel senso che, come si vede qua, allora, i problemi, vabbè, questo è trascurare perché ho messo la forza qui, dunque questo non mi interessa proprio qui, non ha nessun senso reale e, dunque, vado giù e il problema comincia qui, eccolo qua, no? Quando siamo 87, vediamo, ecco, andiamo sul 87, vediamo se comincia 87, qui vediamo, eccolo qua, qua. Dunque, io sono a 87, qui invece ci dovrebbe essere 66 MPa, 87 MPa, però, un po' è dovuto al fatto anche della schematizzazione di questo carico qua che mi porta su, e dunque io sapevo che qua avevo un qualcosa in più, ok? Rispetto a quello teorico. Però ci siamo, ecco, la cosa lampante è che qui influisce il taglio, anche se io ho un momento flettente maggiore qui, qui è questo, perché io qua avrei attorno a 60 MPa von Mises e qua 66, e dunque qui influisce, anche se è un momento torcente maggiore qua, influisce il taglio, influisce il taglio e, dunque, stiamo attenti, anche il discorso, quando noi trascuriamo il taglio, bisogna stare attenti. Dunque, ecco, uno scostamento tra 87 e 66 da punto di vista teorico, però, dico, ci siamo, ecco, nel senso che comunque sapevo perché ho questo errore che dovrei riuscire, errore, perché è una schematizzazione che mi porta un po' sul carico. Dunque, poi io qua vado giù e il carico, se noi andiamo, per esempio, a vedere, vediamo, qui siamo a 66, qui trascurriamo, ripeto, qua questo non c'entra, comunque, qui ho, dove è più sollecitato, ok, e andiamo a vedere 65, dove mi porta, 65, 65, 60, 64, vediamo, siamo ancora qui, 63, ok, andiamo giù a vedere sul 57, 57, e là comincia, dunque 58, andiamo a vedere, 58, ecco qua, dunque, qua la zona dovuta al taglio mi porta su rispetto a questo, e poi sul 58, 60, come teoricamente è, comincia anche qua, dunque, andiamo a vedere, 59, e ci siamo, 59, 60, vediamo, 60, 60, è sparito, però ci siamo, 59, e siamo con la teoria, lì siamo, siamo praticamente giusti con la teoria. teniamo conto che, se non consideriamo il taglio, risulterebbe più caricata questa, nella realtà, considerando anche il taglio, risulta questa sezione la più caricata. sono contento, ho capito più cose sul simulation, su come schematizzare un albero, e didatticamente è potentissimo, penso che dobbiamo, devo utilizzarlo il prossimo anno in disegno, almeno sull'albero, dunque parto da un dimensionamento dell'albero, poi andrò a vedere dov'è il carico, usando questo strumento, magari comparandolo con la teoria, con la schematizzazione 2D, e poi andrò a fargli disegnare l'albero, e poi verificarlo di nuovo, con tutte le scelte che hanno fatto, vedendo il grado di sicurezza, col disegno, sulle varie sezioni. Ok, ci vediamo alla prossima, arrivederci.